GIAPPO GAMER 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 GIAPPO 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 GAMER GIAPPO 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 GAMER GIAPPO 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 GAMER GIAPPO 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 G Uh, ah, ce la fa manco lui Cavolo, non si muove, deve essere proprio bloccata se la mia forza non basta Siete patetici, vi faccio vedere io come si fa Oh, grandissimo, come ha spavuto la roccia, grandissimo Porca la miseria Eh, la peppa, e che? Wow, sono il migliore Accidenti, beh, tanto di cappello Ma che hai fatto di speciale rispetto a me? Eh, spunto che solo l'eroe prescelto poteva tirarla fuori Ah, ma certo, avevo dimenticato che abbiamo tra noi un eroe Un eroe? Lui? Hai presente quelle spade sacre dei GDR, ovvero giochi di ruolo che solo l'eroe può sollevare? Fidammino che Asuka è in missione per diventare un eroe Soda Beh, più o meno Oh, beh, quella vecchia mazza sporca non è esattamente una spada sacra Ecco, la crudere realtà che infrangi i sogni La sacra spada dell'eroe Ah, sarò il salvatore del mondo Si fa una bella risata Questo è lo spirito di Chiban, sei perfetto per quel ruolo Se voi i fessi avete finito quei giochi di ruolo, perché non andiamo a cercare lavoro? Eh, calla Chi sono questi? Eh, gente, vi stai divertendo? Cacciatore di gente attempata? Ci dispiace ma siamo cacciatori di gente attempata Non peggiorate la situazione e sganciate tutti i soldi che avete Purtroppo siamo al verde Tre tizzi di mezz'età senza un soldo? Sì, come no? Inventatevi una scusa migliore, vecchi bastardi Cacchio Per dire cacchio, eh La verità fa davvero male quando esce dalla bocca di un teppista Oh Ehi, signor eroe, ti va di usare quella spada sacra per sgominare un po' di mostri? Buona idea, coraggio Ok, ecco la musichetta Oddio, oddio Malviventi, oddio, oddio Ma che caspia sono diventati? Ehi, che diamine è stato? Eh Allora, diamo po', assalto i piccioni Vai con i due piccioni Vai, mazzata bellicosa Bene, livello 9 Carica esprima Vai, pestaggio Oh, vai così, si sta incattivendo? Maia, cazzarola Che so ste mosse E no, e no, così non va bene Porca miseria, che pezza che ha dato Vai, prendi questo, così Vai, salto i piccioni a quello Vediamo un po' se lo mancano vivo Quasi, cazzarola Vai di pestaggio Questo è il livello 10, il battitore, cavolo No, cazzarola Vai, mazzata bellicosa E ancora non va fuori quello Vai, assalto i piccioni Vai, mangiate velo vivo Vai, mangiate velo vivo Sì, è andato È andato grandissimo, namba Vai, pestaggio Pestami questo, di livello 9 Vai così, vai così Grandissimo, risultato 390 yen Allora, i cibali livello 9 Namba livello 9, quasi 10 10 per Adachi Bene così, bene così Oggetti ottenuti Nuovo rango Nuovo rango anche per Adachi Ma che tesi fumato? Ma 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 Grazie a tutti. Ok, Kasuga ora lavora come eroe. Yatta! Bene così, bene così. L'aspetto dei nemici cambia grazie alla ferva immaginazione di Kasuga. No, ma che figata è! Che figata è! E ok, bene così. Bene così. Dobbiamo raggiungere Hello Work, ma direi che lo faremo tranquillamente nel prossimo episodio. Per questo episodio è veramente ottimo così. E allora, eccoci qui nel menu dei titoli di questo Yakuza Like a Dragon. Allora, anche questo episodio numero 18 della serie termina qui. Sperando che vi sia piaciuto il video di lasciarvi i più like possibili. Ovviamente commentate, condividete a più non posso. Suvi miei vari social. Vi vedo come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella per rimanere ragionare i mesi di video di episodio sul gaming giapponese a 360 gradi, alle volte anche non. Con uscita quotidiana di video. E infine, vi invito a seguirmi anche sul mio blog, dove diante intanto scrivo news e recensioni varie sui giochi che riesco a portare a termine sul canale. Vi aspetto su WordPress al link giappogamer.home.blog. E allora, cari giappogamersi, io vi ringrazio una ura che sarà di fin qui. E dal vostro, giappogamer, per il momento è tutto. Matane! E i prossimi episodi! Ciao!